Musica Ciao ragazzi qui l'Alex bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovo video su GTA 5 me l'ha chiesto ragazzi uno di voi di farlo quindi ragazzi lo faccio e questo video appunto aprirà la serie sui misteri di GTA 5 un po' ragazzi com'era sul GTA San Andreas ragazzi e raga faremo anche ovviamente anche la serie sui misteri appunto anche su GTA 5 ho detto anche miliardi di volte ma non fateci caso ragazzi siamo qui con Michael e oggi sotto vostra richiesta andremo a indagare sul presunto fantasma del Monte Gordo ragazzi non so se mi avete mai sentito parlare di questo fantasma mi avete mai detto voi appunto vai al Monte Gordo e cerca il fantasma del Monte Gordo io ho detto va bene non so di cosa stai parlando ma va bene il Monte Gordo ragazzi dopo averlo cercato nella mappa e non lo trovavo è qui eccolo Mont Gordo quindi ragazzi ci dirigiamo qui e ragazzi appunto andiamo a indagare su questo presunto mistero allora prendiamo la macchina di Michael ragazzi e andiamo allora ragazzi io ci vado di giorno tanto sono le 10 di mattina quindi boh al massimo starò lì anche la notte per vedere se cambia qualcosa e poi ragazzi soprattutto ho fatto caso a una cosa veramente inquietante ma che tratteremo in un altro episodio di misteri di GTA 5 adesso ragazzi facciamo il fantasma del Monte Gordo sfateremo questo mistero? Lo confermeremo? Non lo so ragazzi probabilmente lo sfateremo perché di solito fantasmi queste cose qua sono solo mod quindi non credo appunto ci sia questo fantasma però ragazzi ci proviamo anche perché non so di cosa state parlando quindi ragazzi non lo so vedremo comunque ragazzi lasciate almeno 10 like ragazzi per i prossimi video di GTA 5 mi raccomando se vi piace come gioco sul mio canale appunto mettete un bel like ragazzi tra l'altro non metto la facecam perché vabbè non l'ho mai messa nelle serie appunto dei misteri quindi ragazzi non la metto nemmeno qua la facecam la metterò in video tra virgolette cazzeggio oppure con obiettivi come quello là appunto delle quattro stelle che avete visto mio e anche della mia ragazza comunque siamo arrivati oh madonna raga poi c'è un faro e una casetta inquietantissima quindi in teoria il Monte Gordo è questo raga non ci sono mai venuto ancora qui quindi è tutto nuovo per me tra l'altro io questo qua raga GTA 5 l'avevo giocato nel 2013 su PS3 l'avevo finito solo una volta quindi non mi ricordo proprio niente infatti ancora non l'ho finito il gioco perfetto raga dammi un'occhiata in giro e vediamo dove siamo allora in teoria il Monte Gordo dovrebbe essere questo quindi non è effettivamente una montagna altissima come il Monte Ciliad però non è neanche bassissima diciamo così il fantasma del Monte Gordo quindi presumo che dobbiamo andare verso la montagna però ragazzi io metterei ecco appunto dare un'occhiata anche a questa casetta che vedendola adesso di giorno no però immagino vederla di notte con il faro alla The Ring dietro cioè mamma mia che carino un cane ciao bello alè ciao carino poi abbai a caso potrebbe essere già un indizio ragazzi i comportamenti insoliti degli animali mmm bah andiamo avanti raga qua c'è una famiglia ma perché ci sono le zucche di Halloween bah non lo so ma chi appaia il cane raga guarda verso di là ma chi cacchio sta abbagliando raga quel faro è inquietantissimo eh mamma mia diamo un'occhiata qua ragazzi ok non sembra esserci nulla di strano eh proviamo ad andare in prima persona così magari vediamo meglio l'ambiente anche se non credo ci sia qualcosa qui raga proviamo a scendere queste scalette che ci sono qui ah raga la serie appunto su GTA V sui misteri sarà molto più aperta rispetto a quella di San Andreas nel senso che sarà tutto in live come sto facendo in questo momento quindi potrebbe anche durare sui 20 minuti ci sono delle ah qua c'è della gente ma conviene mettervi l'arma ragazzi perché scusate devo controllare in giro ok raga io andrei dare un'occhiata a quel faro là mi incuriosisce troppo ok raga la radio la spengo perché non vorrei prendermi copyright oh mio dio c'è uno scoglio e poi non vorrei appunto rovinare l'atmosfera del video come faccio a sedere qua sopra raga non sembra esserci niente di insolito proviamo a vedere qua ma non credo ma non voglio partecipare alla gara acquatica voglio scendere vorrei andare a vedere ragazzi questo faro ok sta iniziando a piovere ragazzi aiuto per rendere cose un po' inquietanti un po' più inquietanti eh si può entrare? no non si può entrare ragazzi è inquietantissimo però non sembra esserci praticamente nulla qua oh cosa ho preso? oddio frammento recuperato lettera raccolti ah questa è la famosa lettera cioè ho sentito parlare perché io con le mie ragazze su youtube abbiamo sentito parlare di una lettera di un killer tipo e sarà questa che figata ho preso un pezzo neanche se cioè non sape neanche che era qua perfetto ragazzi non c'è niente qua cioè è solo inquietante come come posto però non c'è nulla quindi tornerei sulla terra ferma ragazzi quindi saliamo e vediamo un po' appunto andiamo a indagare sul monte gordo allora do ragazzi inquietantissimo sto diluvio così rende le cose ancora più inquietanti ok ragazzi ho preso una bici perché la macchina non c'è più probabilmente è spawnata quindi ragazzi usiamo una bici per raggiungere appunto il monte gordo e vediamo un po' cosa ci riserva questo mistero alentui il monte gordo è questo quindi dobbiamo andare sempre dritto non è che mi piaccia tanto sto diluvio così eh cioè nel senso è figo però mi fa cagare sotto ancora di più vediamo un po' ok ragazzi questo è il monte gordo e quindi il fantasma è qui tecnicamente sono delle macchine qua cosa ci fanno delle macchine qua da sole parcheggiate così ragazzi guardi rubo sto pick up perché almeno riesco a salire meglio ok 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 ragazzi ho preso il pick up in prestito metto la navia per salire però io vorrei salire sopra il monte mamma mia ragazzi vi lascio sentire un attimo il rumore della pioggia in questo posto desolato salire Ragazzi veramente inquietante Vediamo di seguire il sentiero Anche se non so minimamente Dove possa portare Oh mio dio Cosa c'è? Una specie di Di sentierino Ragazzi sto Facendo una cosa pericolosissima Quindi ragazzi queste avventure ci serviranno Anche pericoli Ragazzi lascio il pick up qui Continuo a piedi visto che Diciamo che è un Un sentiero Che è più comodo appunto per correre a piedi Sono le 5 del pomeriggio ragazzi Ragazzi devo dirlo Per essere inquietante è inquietante Come posto E ci sta veramente molto bene Ambientare un mistero su un presunto fantasma Devo dire la verità Però non credo ci sia Ragazzi lo indagliamo per scoprirla Allora fin fine Io non mi sono spoilerato niente Se esiste o non esiste Perché voglio Godermi questa serie E provare le emozioni in live Quindi Questo sentiero qua non mi ha portato a nessuna parte Quindi devo Recuperare il pick up Che è lì In fondo Per appunto andare avanti E scoprire cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è da questo Quale mistero c'è da questo monte No raga non va Siamo troppo ripidi Dai 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 Per di più anche bagnato per terra Ok basta solo prendere un po' di velocità Perfetto ce l'abbiamo fatta Vai pick up dai Non deludermi Perfetto Allora ragazzi seguiamo il sentiero Perché qua c'è un leggero sentiero Un po' pericoloso Però c'è Un coiote No non voglio investirlo Poverino Ma ragazzi c'è un'anima viva in sto monte C'è un coiote La cosa mi rallegra un po' Ok pian pianino Pian pianino Pian pianino Non ci ammazziamo Ok Non si sale Ci deve essere il modo per salire Ok ragazzi Forse ho trovato la strada Per salire Anche sto facendo una fatica bestia Dai pick up Non mi abbandonare Dai 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 Non mi abbandonare Non mi abbandonare Non mi abbandonare Ok Però fin qua ci siamo arrivati Ora Continuiamo a piedi Vai 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 Oddio Ok ragazzi Ho scoperto che facendo Cioè mirando con la pistola E puntando in alto Non scivola il personaggio Boh sarà tipo un glitch o qualcosa Però è Ecco appunto Parlo troppo presto No Michael no Non ci credo Ok ragazzi Eccomi qui Dopo quel piccolo incidente Stavolta è sera E sono ancora al monte gordo Sono le 22 e 20 E Cerchiamo di salire Ragazzi non è per niente facile Niente ragazzi Conviene scendere Perché qua non si sale per niente Ok Ragazzi siamo al monte gordo Sono le 22 e 40 E Siamo qui per indagare appunto Vi ricordo sul fantasma Del monte gordo Io stavo cercando di salire Per vedere Se trovo qualcosa Perché Ecco No ragazzi Non proprio No Non si riesce a salire su sto monte È È ripidissimo Io provo No no ragazzi Non si riesce È incredibile Oh ragazzi Non ci credo Ce l'ho fatta Ok Sono le 23 ragazzi Sono le 11 di sera E mi sto cagando sotto Ok Qua non ammazziamoci Per favore No infatti Ma 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 No Michael Ti prego Siamo quasi arrivati Devi solo salire No Devi solo salire Questo Questo coso Oh mio dio Michael Goal Eccoli Poi magari c'è la strada Non l'ho vista Però Questo è tutto Altro paio di maniche Ragazzi mi sta venendo un'ansia Perché Là sopra c'è tipo una torre Radio Che Che Sbilluccica Mi ricorda Slender Sta cosa Ok Ragazzi Il sentierino L'ho trovato Non ci posso credere Che ore sono Le 23 E 42 Ok ragazzi Siamo quasi in cima O quasi appunto Ok ragazzi L'ho fatta Sono in cima Ragazzi Sono in cima Però Io non vedo nessun Nessun fantasma Vediamo Allora Proviamo ad andare Verso di qua Che ore sono? Mezzanotte 50 Ragazzi Io direi che Questo mistero È completamente Sfatato Perché Non c'è nulla Cos'è quella roba lì? Ah è polvere Ragazzi È inquietante Perché comunque È una montagna Vuota Cioè È completamente Cioè A parte quella cosa Quell'antenna Che abbiamo visto prima Però A parte quella Non c'è praticamente Nulla qua su Eh Provo a rifare Un altro giro Per sicurezza Ma non penso Appunto che Qua siamo sulla cima Esatta Del mondo Questa è la cima Ok ragazzi Eccomi qui Veramente Ho esplorato Tutto quello che c'è Ad esplorare Ma non c'è niente Mi sono andato A documentare Su internet C'è scritto Che il fantasma Appare Alle 11 E scompare A mezzanotte Non so se Sta cosa È vera Però Sono già Alle 3 Quindi ce lo siamo Perso Se così fosse E Quindi niente Raga Io Aspetterei Appunto Ancora E Vedrei Se appare Per davvero Non so dove appare Tra l'altro Ma Vabbè Ragazzi Aspetto qua Tutta Tutto il giorno E vediamo Cosa succede 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mancano pochissimi secondi alle 11. Poi tra l'altro non sono manco due cell fan. Boh. Ragazzo qua fermo. Vediamo un po'. Ragà! Ragà! No, ragà! Che cazzo è quel co... Ragà, è il fantasma! Non ci posso credere! Oddio! No, non ci posso... Ci posso credere! Ragà, mi fa paurissima. Oh mio Dio! Ma mi guarda, ragà! No, vabbè. Ragà, mi voglio fare un selfie. Se riesco. Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio! Me lo sono fatto. Cioè, ragazzi... Allora è confermato il mistero. Esiste il fantasma del Monte Gordo. Ci posso credere. Guardatelo, che brutto! È inquietanti... Ma si può sparare? È scomparso. Ma raga, voglio andare là dove era il fantasma. Era qua. Era esattamente qua. Raga, non ho parole. Non ho parole. È fottutamente inquietante. Veramente un casino, raga. Mio Dio. Ragazzi, non so che dire. Questo mistero lo rendo confermato e non sfatato. Il mistero del Monte Gordo. Esiste. E lo potete trovare qua. Faccio vedere anche bene la mappa, ragazzi. Esattamente qui. Alle ore 23 di sera, appunto. Alle 11 di sera. E scompare... A mezzanotte. Sì. Sì. Qui ragazzi, che dire. Io spero che il video vi sia piaciuto. Mi sto cagando sotto. Voglio tornarmene subito, immediatamente in città. E non qui dove è tutto isolato. E insomma... Voglio tornarmene in mezzo alla vita. E niente, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, lasciate un bel like. Per questo fantastico video. E soprattutto se volete altri video su GTA V. Qui raga, che dire. Alla prossima. Bella.